Le risorse dell'Associazione Luca Coscioni, 389 mila euro per il 2011, arrivano per metà dalle iscrizioni, 100 euro, e dai contributi liberi, e per l'altra metà dal 5 per mille, da chi sceglie di destinarlo all'Associazione Luca Coscioni. Questi soldi, come vengono spesi, è documentato euro per euro sul sito dell'Associazione Coscioni, compresi gli stipendi e le spese del personale. In realtà, la gran parte delle risorse umane sono i contributi volontari di scienziati, ricercatori, persone malate o medici, che gratuitamente, volontariamente, rilanciano e fanno vivere gli obiettivi della libertà di ricerca e dell'autodeterminazione. Grazie a tutti.